Ciao a tutti ragazzi, sono il vostro amico di gestione di quartiere e ben ritrovati nei miei laboratori Sì, siamo nei miei laboratori, nella mia stanza Perché ultimamente abbiamo fatto un po' di location strane E siamo al final boss su Airstone Con un tempo mage, ovviamente, easy legend, l'ho chiamato Ladro Agro, 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 ladro, queste cose stanno dicendo Vabbè, ovviamente mi serve tutta la fortuna possibile per il final boss E c'è una cosa che i genelini facevano quando erano piccoli Che non fanno mai da un sacco di tempo ovviamente Che mi dava un sacco di forza, un sacco di carica, un sacco di fortuna E sto parlando del doppio bacio Eh sì, lo so, lo so, lo so Vi ho messi, vi ho spiazzati Allora, forza, doppio bacio, ma non sono a perdo No, forza, dai No, dovete farlo per me Fallo per il tuo cugino, il tuo legend Dai, ti ricordi quando ho fatto doppio strike all'ultimo tiro di bowling che ho battuto tuo padre? Dai, 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 doppio bacio Vai, pronti, vai 3, 2, 1, via Dai, dai, vi Muoviti Vai 3, 2, 1 Ok, vinto Ma è, trimone, muovi Ma io li sforzo dalla nostra Se cagate mai più, eh Li sforzo dalla nostra Sì, io non do venire più qua Quando vengo qua, tu ci incastri Tu ci incastri Tu, sì, se uno sfruttatore mi dico Non ci sfrutti Senti, non è colpa mia, io sono stato sfruttato Di conseguenza sfrutto E' la colpa a Francesco Volevi dicere, mirror match probabilmente Solo che le gold è più fighe e vince Vito Mi hai appena dato il doppio bacio Tutto ciò che dirai Potrei essere usato quanto dire in time to be E' per quello che ti ripito Tu mi fai fare queste cose Che ora metterai i video su YouTube E io? Cioè, no Perché? Che senso ha? Ecco, hai visto? Le mana, Wyrm No, ma però No, abbiamo ovviamente potere eroe No, ovviamente mezzo scientist E poi non si sa Ok, ovviamente In questo matchup Come tutti i mirror È in vantaggio Chi iniziava il primo Quindi lui al momento è in vantaggio Perché è iniziato benissimo E non riuscire a ribaltare la situazione Con una bella combo Che come la chiamo io È la combo del paladino rubata Perché c'è la carta costo 6 del paladino Che fa 8 danni a cazzo Invece questa combo Tiene fa fare 7 E la 3 è tutto tu Ah Oh, mi ha appena dato il mezzaino Eh, però c'ho l'altro in mano Cioè, sarebbe stata una giocata pessima Secondo me Probbene che c'è altro Se io ti faccio proprio la fortuna Ok, attenzione, combo Adesso, sono 7 danni Potrei ucciderli tutti Importante, basta Io ci provo Sì, sì È un errore È un errore Attaccare qui E-sport Ok, ovviamente lui adesso crederà Che il mezzaino si mi dia un segreto Quindi Sarà un po' restio Se l'uciderlo Sì Sì Vedi perché in questi matchup Preferisci in ritardo Vedi Ok, adesso lui ha quel troione Di... Però se metto lei Lo posso ammazzare Dove giocare... Deve giocare la spell part No, non posso No, non ce l'ho più niente Allora, al momento non ce l'ho più niente Poi possiamo Questa non ti spesso È la counter spell Wow Wow Mi ha fatto Mi ha aperto come una cozza Porca Ahia, raga Questo è grave Lui... Cazzo, lui c'è ancora i 2.000 rentity Nel che io ho già buttati tutti e due Devo sperare che non arrivi In MedScience Vabbè, in realtà io gioco i... I piccoletti costo uno Per counterare i minor rentity Delle avversarie Però ne ho già neccato uno Sì Cosa vuole fare? Sto pensando di giocare a Zurich Drake Perché al momento siamo... Al momento siamo molto in vantaggio Vediamo pure l'altro su di lui Possiamo fare spam, bam, bam E fare 4 spike E in più girare la sua vita E fare altri dettagli E ci stava pure pensando Avrebbe dovuto farlo da te chiusi Manco una Fireball Gold Avrebbe dovuto farlo da te chiusi Vero, non ha una Fireball Gold Forse ce l'ha ma non l'ha messa The eSport Comunque anche lui la carta che ha avuto da portare Non l'ha ancora giocata Comunque una Fireball Gold Ce l'ha per forza Sì, faccio Che caccio Ha scelto lui Eccolo Vabbè, una cagata Sì, faccio Rimane uno vita Rimane uno vita E io, è molto proprio pure Siccome lo può ammazzare Aspetta, posso fare spam Spam E proprio lui muore Se no posso fare spam No Allora, intanto mettiamo lui perché è obbligo Poi Il problema è che se metto le Se metto le Non posso fare spam E poi ti è di un eroe No, ma non ho Devo proprio su se le dame Ovviamente a fare prima non ha senso Perché gli ultimi spy Non ci sarebbero E no No No, di nuovo Eh, porca puttana Che lo sapevo Vabbè, non ce l'ho messo mai in su Però Abbiamo detto sfiga in quelli sports Servo il signore del fuoco Ok, dormi Parla di fuoco Vabbè, se mi ammazzare il colmo Oh Very good This is pretty good Ok Non mi serve un cazzo Mi senti Sì, poi devo uscire Dai, dai Sta andando benissimo Sta andando benissimo Mamma mia Vi ricordo che non ho mai aiutato Legend Anche perché non ci ho mai provato Così, seriamente Una volta Sì, una volta Ma sempre a fine mail Se mi metto Come un coglione Perché appunto Mi metto un drogato Eh, io all'inizio di scomese Siamo a new All'inizio di scomese Leggeeeed 3.600 Vaffanculo Pensavo di più Si è in basso il tuo matchup Matchup Mo' Ecco La mia Dovrebbe essere Io sono Leggenda Benvenuto nel lit di Ayrston Distinguiti con questo nuovo torsio delle carte Troppa roba Troppa roba Bella ragazzi Dico The dream come true Eh vai Ah, ovviamente Mi metto a dicermi complimenti GG, Grade, Luca, Previm, Brub, Grand Brava Brava Aspetta Devo fare la foto E scrivere E mandarlo sul gruppo E scrivere Schifoso con Che stavo dicendo Comunque Che stavo dicendo Prima che quello si arrendesse Stavo dicendo Questo importante Ma non mi ricordo più Welcome in the leg In the leg E vai Vabbè Comunque Che stavo dicendo Se non lo sei tu Tu lo stavi dicendo Eh, lo so Era una cosa Ricordatela Vabbè 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 Ti me lo ricorderò Prima un po' Tra 50 video Mi sei ricordato Vabbè 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 Il video finisce qui Spero che vi sia piaciuto Questa Final Boss E ovviamente Il doppio bacio Mi ha fatto vincere Quindi ringrazio anche voi due Dai miei laboratori È tutto Vi ricordo di me Se il video vi è piaciuto Di iscrivervi al canale Di mettere un bel mi piace Qua sotto Di mi piacere anche La mia pagina Facebook Perché no E di seguirmi su Twitch Ciao 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 Ciao